Dobbiamo essere protagonisti dell'impegno per il nostro territorio, così da riaccendere la speranza di un futuro davvero sostenibile. Buon Natale! Abbiamo davanti a noi sfide importanti. Ne sono certo che con fiducia, consapevolezza e coerenza sapremo superare questi momenti e rilanceremo il nostro cantone Ticino tutti assieme e uniti. Buone feste a tutti voi! Non fermiamoci, reinventiamoci. Pensiamo globale e agiamo locale per sostenere la realtà del nostro territorio. Buon Natale a tutti e ai vostri cari! Prodotti nostri, principi nostri. Fierteggiamo un Buon Natale e un anno venturo migliore di questo. Anteauguri a tutti! Care e cari amici, ci sono dei produttori locali che hanno chiuso la produzione di grappa e hanno prodotto questi disinfettanti. Io mi auguro con tutti voi che si chiudano le produzioni disinfettanti e si torni a produrre la grappa nostrana. Tanti auguri a tutti voi! Cari amici liberali, in questo momento difficoltoso penso che la salute sia la cosa più importante. Mi raccomando di mantenervi, come ho detto prima, in salute per poter essere vicini al territorio e poter contribuire ai nostri prodotti locali. Mettiamo da parte questa per un attimo e ci preoccupiamo dei nostri cari magari con un pensiero locale. Io l'ho messo nei biscotti e voi metteteci il cuore. Buone feste a tutti, state bene! Tanti auguri a tutti, a tutti voi, alle vostre famiglie e mi raccomando voltiamo pagina da questo 2020. Auguri a tutti i ticinesi, ai nipoti, a chi come me ha superato una certa età che soffre soprattutto per questa pandemia e presento un prodotto d'eccellenza tipicamente giubiaschese. È stato un anno duro come il granito ma speriamo che ripartendo da questo, dal nostro territorio, il 2021 sarà un anno split. Auguri a tutti! Auguroni a tutti e a tutti per il 2021! Aiutiamo il nostro Ticino, magari anche la Valle del Sole, promuovendo i prodotti locali! Se manca il lieto fine regaliamoci un nuovo inizio. Di cuore auguri di buone feste a tutte e tutti! Il sale in politica non manca mai e quindi possiamo solo augurarci che l'anno prossimo sia per tutti noi, meno distruttivo come quest'anno e più speziato. Auguroni a tutti! Carissimi, un brindisi in questi momenti difficili, un brindisi locale legato al territorio perché da qui dobbiamo ripartire. Grazie a tutti, buon Natale! Sarà un Natale diverso, il mio augurio con dolcezza è di cercare di superare la tristezza e soprattutto di voler bene a chi è con voi e forzatamente lontano da voi perché ogni volta che amiamo e ogni volta che doniamo sarà sempre Natale. Con la genuinità di un'armonica bocca, Buon Natale e un 2021 ricco di felicità e salute! La farina buona per una politica buona, una politica fatta di libertà, di responsabilità, di solidarietà e di giustizia, valori che vi auguro di vivere appieno nel 2021. Auguri! Troppo facile amico, Giuseppe Buffi vi ha dato l'ispirazione. Leggete questo libro e poi vi voglio fare gli auguri. Sono una nonna e quindi penso agli anziani, ho tre nipoti e quindi penso ai giovani. Spero che il 2021 sia pieno di salute, serenità e felicità. Auguri! Polenta Taragna dal mulino di Maroggia. Dal mio sud, tanti auguri di buon anno, buone feste e speriamo che nel 2021 non si ricostruisca solo il mulino di Maroggia, ma anche la vita in Ticino. Grazie, auguri! In Ticino abbiamo degli ottimi prodotti locali, per esempio questo è un prodotto dei Terreni alla Maggia di Ascona. In questo difficile momento sosteniamo i nostri commerci e io vi auguro tantissimi auguri di buon Natale. Che ognuno di voi possa trovare sotto l'albero tanta dolcezza. Auguroni a tutti! Per il 2021 ripartiamo dal locale, anche dalla cultura e dai nostri bei musei. Con un buon berlotti cinese vorrei brindare alla vostra salute e inviare un augurio speciale a voi e ai vostri cari per un 2021 sereno e in piena salute, in cui i sentimenti di incertezza e preoccupazione lasciano presto spazio a sentimenti di speranza e fiducia per un Ticino prosperoso per tutti noi. Buone feste! Prodotti nostri per il bene di tutti, con l'augurio di non doverle usare l'anno 21. A tutti i migliori auguri di buon Natale! A tutti i migliori auguri di buon Natale!